Buonasera, buonasera a voi qua. Avete sentito? Cioè, sembra che proprio da qua, da Vauganeo, ci sono due enziani che vanno fatti da coronavirus, sono stati portati a repartimenti effettivi di Padova, due enziani che avrebbero giocato a carte con dei cittadini cinesi, probabilmente residenti qua a Vauganeo. Non siete preoccupati? Non siete preoccupati? No, 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 no! Non siete preoccupati! Noi abbiamo il micro che ci protegge O la iconchia si protegge Lascamo le mani C'è l'amorema, c'è l'amorema C'è l'amorema C'è l'amorema C'è l'amorema C'è l'amorema